Il mercato è attivo, è operativo, riscontriamo superata quasi l'emergenza Covid o comunque contenuta e gestita. Abbiamo riscontrato, ho riscontrato che nella gestione degli incassi e nell'affluenza all'interno del mercato c'è stato un aumento sensibile a partire dal 2022, per cui già dal mese di febbraio abbiamo avuto una crescita importante. La situazione non è drammatica. Il commissario liquidatore del mercato ortofrutticolo di Pagani Nocera, Mirko Apa, tranquillizza gli animi e rassicura sui conti della struttura. I comuni di Nocera e Pagani, soci proprietari del mercato, stanno predisponendo un business plan per la futura società che si occuperà di gestire il mercato. Da questo documento sarebbero emersi numeri in rosso, corposi investimenti che dovrebbero essere stanziati per manutenzione e sistemazione degli immobili ed aggiornare alcuni sistemi. Ci stiamo confrontando già da diverso tempo su quella che dovrebbe essere da parte della futura società la gestione relativa alle spese e agli introiti generati dal consorzio. e quindi abbiamo fatto un'analisi, ma hanno fatto un'analisi soprattutto con alcuni tecnici che si sono comunque confrontati con il consorzio attuale per vedere quelle che potrebbero essere la gestione futura. e quindi è emerso che effettivamente da un business plan ci sono alcuni aspetti da riguardare e da migliorare. Ma mi riferisco alla manutenzione, mi riferisco all'aggiornamento di alcuni sistemi all'interno della struttura e anche ai lavori di ripristino, come dire, esattamente di alcuni immobili all'interno del mercato. Ma da qui a dire che la situazione è drammatica, assolutamente mi sento di dire che non è così. e mi riferisco in maniera particolare intanto al presente. Ci tengo a precisare che il bilancio di esercizio verrà portato all'attenzione dell'Assemblea tra circa un mese, poco meno di un mese e anche in quel caso la situazione è comunque tranquilla, rispecchia l'andamento degli anni precedenti. Certamente ci sono comunque delle imposte, ci sono il bilancio grava comunque di alcuni valori relativi ad imposte pregresse.